Fai fatica a riconoscere gli intervalli musicali? Ecco un metodo infallibile, episodio 4. Oggi vediamo alcuni esempi di intervalli giusti discendenti, quindi quarte, quinte e ottave. Per la quarta giusta discendente potremo utilizzare la piccola selenata notturna di Mozart. Per la quinta giusta discendente potremo invece usare il tema dei Flintstones. Per l'ottava giusta discendente possiamo utilizzare un classico degli anni Sessanta, Abbronzatissima, di Edoardo Vianello. Se conosci altri esempi faccelo sapere nei commenti e se sei curioso di scoprire i prossimi intervalli metti un like e segui il nostro profilo.